Da pochi minuti prima dall'inizio del Consiglio Comunale sulla crisi politica, riferirà il Sindaco di questa crisi dopo le dimissioni dell'assessore Venditti e quindi la fuoriuscita dalla maggioranza di cittadini per cicli. Il dato è che il Sindaco non ha più maggioranza in aula, cosa vi aspettate venga a dire? Allora, noi come Forza Italia, come gruppo, siamo messi in attesa. Vogliamo ascoltare proprio le relazioni che farà il Sindaco su questa fuoriuscita del suo partner di maggioranza che era quello che assieme al Sindaco ha deciso e ha governato per due anni e mezzo questa città e le controrepliche che farà l'assessore. Dopodiché tireremo le somme come partito e decideremo il da farsi. Però è una cosa indubbia che come Forza Italia resteremo sempre vigili e nell'interesse del Paese faremo sempre una posizione costruttiva.